Allora ragazzi, innanzitutto per sbloccare quest'area guardatevi uno dei miei video dell'albero sacro, quindi come arrivare all'albero sacro, quindi arriverete anche qua. Innanzitutto oggi vi spiego come trovare questa cenere spirituale del monaco di fiamma nera, molto semplice, quindi dirigetevi qua e mi raccomando il video in descrizione, quindi come raggiungere il sacro albero e raggiungerete anche questo posto. Ora, che facciamo adesso? Questo è un ponte invisibile, quindi mi raccomando, non so, prendete dei coltelli oppure qualche polvere e buttateli a terra, così per farvi strati. Adesso prendo i coltelli, i pugnali e li butto a terra, così facendo posso proseguire sempre più avanti senza cadere nel vuoto, ok? Comunque, bel lavoro alla From Software della collisione che hanno giunto qua, è veramente bel lavoro. Allora, quello che voglio dirvi è che il boss da sconfiggere non è un boss qualunque, ma è solamente una lacrima riflessa, quindi prima di entrare nella box fight là dentro, toglietevi i vestiti, le armi, fate a cazzotti con lui, ok? Più bello, quindi a mani nude è uno spasso, però io non lo sapevo, quindi sono entrato così, armato con i vestiti e tutto. Quindi, una volta raggiunto, cioè una volta finito questo ponte invisibile, scendete qua sotto, uccidete questa cosa qua, mamma mia è inquietante, fa anche cacare sta cosa, e qui, proprio qui c'è la leva, quindi tirate la leva, proseguite da questa parte, sempre più dritto, sempre più là, e lì troverete la porta aperta, quindi scendete giù, uccidete la lacrima riflessa, smarrita, e voilà. Facile, molto semplice. E una volta uccisa, vi darà la genere spirituale, monaco di fiamma nera. Vogliamo fare uno contro, facciamo due contro uno, e siamo tre di noi, tre copie, eh? Che dici? Madonna, mi ha fatto veramente un sacco di danno, mazza, come so forte, oh. No, guardate questa scena, guardate un po' questa scena. Madonna, avete visto quanti danni mi ha fatto? E voilà! Monaco della fiamma nera! Quindi ragazzi, se il video vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale, ti mandano anche la campanellina, e lasciate anche un bel like.